certo che me lo ricordo quel giorno mi ricordo tutto di quel giorno e solo quello voglio ricordare arrivò Ettore entrò dalle porte scee si fermò sotto la grande quercia tutte le spose le figlie dei guerrieri troiani corsero verso di lui volevano sapere notizie dei loro figli e fratelli e mariti ma lui disse solo pregate gli dèi perché una grande sciagura incombe su di noi poi corse verso la reggia di Priamo l'immensa reggia dai portici splendenti che ricchezza da una parte cinquanta stanze di pietra chiara costruite una accanto all'altra ci dormivano i figli maschi di Priamo con le loro spose e dall'altra dodici stanze di pietra chiara costruite una accanto all'altra ci dormivano le figlie di Priamo con i loro sposi Ettore entrò ed Ecuba la sua dolcissima madre gli andò incontro lo prese per mano e gli disse figlio perché sei qui perché hai lasciato la battaglia gli odiosi Achei vi schiacciano là contro le mura sei venuto per alzare le braccia verso Zeus dall'alto della rocca lascia che ti dia del vino perché tu ne beva e lo offra agli dèi il vino da forza all'uomo stanco e tu sei sfinito tu che combatti per difendere tutti noi ma Ettore disse di no le rispose che non voleva vino non voleva perdere la sua forza e dimenticare la battaglia e disse che neanche poteva offrirlo agli dèi perché le sue mani erano sporche di polvere e sangue va tu al tempio di Atena le disse raduna tutte le donne più anziane e sali lassù prendi il peplo più bello il più grande che hai nella reggia quello che hai più caro e va a deporlo sulle ginocchia di Atena la dea predatrice chiedile di avere pietà delle spose troiane dei loro giovani figli e supplicala di allontanare da noi di Omede il figlio di Tideo perché con troppa ferocia combatte e ovunque sparge terrore allora la madre raccolse le ancelle e le mandò a cercare per la città tutte le nobili anziane poi entrò nel talamo profumato dove conservava i pepli ricamati dalle donne di sidone i pepli che il divino paride aveva portato dal suo viaggio quando era tornato con Elena attraversando l'ampio mare e fra tutti i pepli ecuba scelse il più bello e grande tutto ricamato splendeva come una stella e voglio dirvi questo era l'ultimo quello che sotto tutti gli altri giaceva lo prese e si mise in cammino con le altre donne verso il tempio di Atena io non c'ero veramente ma queste cose le so perché si parlava sempre tra di noi le ancelle e tutte le serve della casa e mi dissero che Ettore quando lasciò la madre andò a cercare paride per riportarlo in battaglia lo trovò nel talamo che lucidava le sue armi bellissime lo scudo la corazza l'arco ricurvo nella stanza c'era anche Elena stava in mezzo alle ancelle lavoravano tutte con arte mirabile Ettore entrò stringeva ancora in pugno la lancia splendeva la punta di bronzo e appena vide paride si mise a urlargli miserabile che stai qui a goderti il tuo rancore mentre i guerrieri combattono intorno alle alte mura di troia proprio tu che sei la causa di questa guerra muoviti vieni a combattere o ben presto vedrai la tua città bruciare nel fuoco nemico non hai torto Ettore a rimproverarmi disse paride ma cerca di capirmi non stavo qui a covare asti o per i troiani ma a vivere il mio dolore anche Elena con dolcezza mi dice che devo ritornare in battaglia e forse è la cosa migliore che posso fare aspettami il tempo di indossare le armi o va avanti e io ti raggiungerò Ettore neanche gli rispose nel silenzio tutte le ancelle udirono dolcissima la voce di Elena Ettore diceva come vorrei che il giorno in cui la madre mi diede alla luce una tempesta di vento mi avesse portata lontano sulla cima di una montagna o fra le onde del mare prima che tutto questo accadesse come vorrei che almeno la sorte mi avesse riservato un uomo capace di sentire il biasimo e il disprezzo degli altri ma paride non ha un animo forte e non lo avrà mai vieni qui Ettore e siediti accanto a me il tuo cuore oppresso dagli affanni ed è mia la colpa mia e di paride e della nostra follia riposati accanto a me sai la tristezza è il nostro destino ma è per questo che le nostre vite saranno cantate per sempre da tutti gli uomini che verranno Ettore non si mosse non chiedermi di rimanere qui Elena disse anche se lo fai per me non chiedermelo lasciami andare a casa piuttosto perché voglio vedere la mia sposa e mio figlio la mia famiglia i troiani che combattono laggiù mi stanno aspettando ma io voglio ancora passare da loro voglio vederli perché davvero non so se mai tornerò un'altra volta qui vivo prima che gli Achei mi uccidano così disse e si allontanò venne verso casa ma non ci trovò chiese alle schiave dove eravamo e quelle gli dissero che Andromaca era corsa sulla torre di Ilio aveva sentito che i troiani stavano cedendo alla forza degli Achei ed era corsa sulla torre e la nutrice era corsa con lei stringendo tra le braccia il piccolo astianatte e adesso erano là a vagare come pazze verso le mura Ettore non disse una parola si voltò e corse velocemente verso le porte scee riattraversando la città se ne stava ormai per uscire di nuovo dalle mura e tornare in battaglia quando Andromaca lo vide e gli andò incontro per fermarlo e io dietro di lei con il bambino tra le braccia piccolo tenero l'amato figlio di Ettore bello come una stella ci vide Ettore e si fermò e sorrise questo l'ho proprio visto coi miei occhi ero lì Ettore sorrise e Andromaca gli andò vicino e lo prese per mano piangeva e diceva infelice la tua forza sarà la tua rovina non hai pietà di tuo figlio che ancora un bambino e di me sventurata vuoi tornare là fuori dove gli achei ti balzeranno addosso tutti insieme e ti uccideranno piangeva e poi disse Ettore se io ti perdo morire sarà meglio che rimanere viva perché non ci sarà conforto per me solo dolore io non ho padre non ho più nessuno il padre me lo ha ucciso Achille quando distrusse Tebe dalle alte porte avevo sette fratelli e tutti li uccisi Achille nello stesso giorno mentre pascolavano i buoi lenti e le candide pecore mia madre Achille se la portò via e poi pagamo per riaverla e lei tornò ma per morire di dolore d'improvviso nella nostra casa Ettore tu mi sei padre e madre e fratello e sei il mio sposo giovane abbi pietà di me resta qui sulla torre non combattere in campo aperto fa arretrare l'esercito vicino al fico selvatico a difendere l'unico punto debole delle mura dove già tre volte hanno tentato l'assalto gli Achei spinti dal loro coraggio ma Ettore rispose so anch'io tutto questo donna ma la vergogna che proverai a tenermi lontano dalla battaglia sarebbe troppo grande io sono cresciuto imparando a essere forte sempre e a combattere ogni battaglia in prima fila per la gloria di mio padre e per la mia come potrebbe il mio cuore adesso lasciarmi fuggire io lo so bene che verrà il giorno in cui perirà la sacra città di troia e con essa priamo e la gente di priamo e se immagino quel giorno non è il dolore dei troiani che immagino né quello di mio padre di mia madre o dei miei fratelli caduti nella polvere uccisi dai nemici io quando immagino quel giorno vedo te vedo un guerriero Acheo che ti prende e ti trascina via in lacrime ti vedo schiava ad Argo mentre tessi le vesti di un'altra donna e per lei vai a prendere l'acqua alla fonte ti vedo piangere e sento la voce di quelli che guardando ti dicono eccola lì la sposa di Ettore il più forte di tutti i guerrieri troiani possa io morire prima di saperti schiava possa io essere sottoterra prima di dover udire le tue grida così disse Ettore glorioso e poi venne verso di me io tenevo in braccio suo figlio capite e lui si avvicinò e fece per prenderlo tra le sue mani ma il bambino si strinse al mio petto scoppiando a piangere lo aveva impaurito vedere il padre lo spaventavano quelle armi di bronzo e il pennacchio sull'elmo lo vedeva a ondeggiare spaventoso e così scoppiò a piangere e mi ricordo che allora Ettore e Andromaca si guardarono e sorrisero poi lui si tolse l'elmo e lo posò a terra allora il bambino si fece prendere e lui lo strinse tra le sue braccia e lo baciò e sollevandolo in alto disse Zeus e voi divinità del cielo fate che questo mio figlio sia come me più forte fra tutti i troiani e signore di ilio fate che la gente vedendolo tornare dalla battaglia dica è perfino più forte di suo padre fate che torni un giorno portando le spoglie insanguinate dei nemici e fate che sua madre sia là quel giorno a gioire nel suo cuore e mentre diceva queste parole mise il figlio tra le braccia di Andromaca e mi ricordo che lei sorrideva e piangeva stringendosi al petto il suo bambino piangeva e sorrideva e guardandola Ettore ebbe pietà di lei e la accarezzò e disse non affliggerti troppo nel tuo cuore nessuno riuscirà a uccidermi se non lo vorrà al destino e se il destino lo vorrà allora pensa che al destino nessun uomo una volta che è nato può sfuggire vile o coraggioso che sia nessuno ora torna a casa e rimettiti al lavoro al fuso e al telaio con le ancelle lascia che alla guerra pensino gli uomini tutti gli uomini di ilio e io più di ogni altro uomo di ilio poi si chinò e riprese l'elmo da terra l'elmo dalla chioma ondeggiante noi tornammo a casa camminando piangeva Andromaca e continuava a voltarsi indietro quando le ancelle la videro arrivare in tutte loro suscitò una grande tristezza tutte scoppiarono in pianto piangevano Ettore lo piangevano nella sua casa e lo piangevano mentre ancora era vivo perché nessuna pensava in cuor suo che vivo sarebbe tornato dalla battaglia e lo piangevano